E' stato un question time rovente quello dello scorso venerdì 26 aprile ad Agropoli. Diverse le interrogazioni da parte dei consiglieri di opposizione al sindaco Adamo Coppola, fra queste la richiesta della consigliera Botticchio di sapere il numero di unità di personale stabilizzato e quali le procedure di assunzione per la società consortile speciale Agropoli Cilento Servizi. Secondo quanto dichiarato durante il question time dalla Botticchio, la società ha un numero inorganico di 77 lavoratori di cui 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato e 57 somministrati da un'altra società. Da qui la supposizione della consigliera dell'irregolarità e delle critiche all'operato dell'amministrazione comunale, nonché la richiesta delle dimissioni del CDA dell'azienda consortile. Qui si fanno voti, questa è una fabbrica, la dobbiamo togliere, la Corte dei Conti si farei conti con voi, perché qui in più ci sta un articolo di legge, io glielo leggo, mi scusi Presidente, però mi dia qualche minuto anche a me. Ecco, vado avanti. In organico sono 77 lavoratori, la Cilento Agropoli Servizi, società somministrante, attraverso i rapporti denominate staff-lasing, le normative vigenti in materia di somministrazione di lavoro, rappresentate dal decreto legislativo numero 81, io parlo con le carte, non parlo a bambara, il quale articolo 31, regolamento del contratto lavorativo, cosa vuol dire? Che il somministrato in un lasso di tempo deve essere regolarizzato a tempo indeterminato, quindi non sono contro questi 57, però perché queste 57 persone non sono state assunte a tempo indeterminato? E allora io mi pongo il problema come consigliere comunale, quindi qua non va, hanno violato la legge e io chiedo le dimissioni, chiedo le dimissioni del Direttore Generale dell'Agropoli Servizi, del Dottore Capozzoli che non è presente, chiedo le dimissioni di Mimmo Gorga, Presidente che non è presente, chiedo le dimissioni del Dottore Sandancelo che non è presente, chiedo le dimissioni. Non si è fatta attendere però la replica del Presidente della Società Agropoli Cilento Servizi, Mimmo Gorga, le dichiarazioni della Consigliera Comunale di Opposizione durante il question time della scorsa settimana non hanno avuto effetto che provocare un allarmismo inopportuno in merito alle azioni compiute dall'azienda nella gestione dei contratti di lavoro dei dipendenti, creando molta confusione in chi ha ascoltato oppure letto. È intollerabile che a fare ciò sia un esponente del mondo politico che per essere consigliere del Comune di Agropoli ha indubbiamente i corretti canali istituzionali per la verifica e l'approfondimento di qualsiasi informazione e ha il dovere e la responsabilità di utilizzarli in modo corretto prima di porla all'esterno e dai suoi lettori con le fattezze di una denuncia, ha sottolineato l'Avvocato Mimmo Gorga. Mi risulta difficile credere, continua l'Avvocato Gorga, che si volesse adombrare l'operato dell'azienda su questioni così delicate come quelle che riguardano il lavoro e trovo la presa di posizione della Consigliera Botticchio pretestuosa e maliziosamente posta, atteso che avrebbe potuto tranquillamente informarsi, come peraltro ha sempre fatto direttamente con il sottoscritto o con il Direttore Generale, Dottor Capozzolo, riguardo altre tematiche o richieste e chiedere maggiori informazioni nella sua qualità di consigliere comunale. Gli interventi normativi in tema di società e partecipazione pubblica, che si sono succeduti con particolare assiduità nel corso degli ultimi anni, hanno comportato la creazione di un complesso di regole che sono, per certi versi, ancora controverse e di incerto inquadramento, creando aspetti problematici in diversi ambiti, tra cui anche in tema di reclutamento di personale. In quest'ultimo settore, anche per l'effetto della crisi economica e finanziaria, si sono aggiunte ulteriori disposizioni che hanno imposto il rispetto di nuovi limiti al mantenimento di partecipazioni societarie per gli enti locali, con ricadute nei criteri di spesa e di costo del lavoro. Con questo voglio dire che è palese e risaputa la mia e di tutto il CDA dell'azienda la massima attenzione per tutti i lavoratori, dal momento che è grande il loro impegno che l'intera città di Agropoli si presenta nei confronti dell'utenza, come una delle realtà del territorio più efficiente nell'erogazione dei servizi offerti ai cittadini. Perciò, conclude il presidente Mimmo Gorga, se il consigliere Botticchio, sempre nell'ottica di collaborazione e di tutela dei lavoratori, si fosse informata, avrebbe saputo che già con verbale del Consiglio di amministrazione dell'aprile 2018 abbiamo approvato e dato mandato al direttore generale di procedere con la stesura del bando di concorso in fase di pubblicazione per la stabilizzazione dei dipendenti che ne hanno i requisiti.